Le prime notizie di venerdì 28 giugno. Una donna di 66 anni, di Erchie, Lisetta Calò, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente in cui altre 5 persone sono rimaste ferite, tra queste una bambina di 7 anni. L'incidente è avvenuto sulla provinciale Mesagne, Torre Santa Susanna, nei pressi del centro cinofilo Salento Dog. Tre le auto coinvolte, una Fiat 500 sulla quale viaggiava Lisetta Calò, una Renault Scenic e una BMW. Ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente sull'asfalto e morto così l'altra notte. Vito Labellarte, 47 anni, di Valenzano, l'incidente è avvenuto sulla statale 16 in direzione sud nei pressi dello svincolo per Mola di Bari. E sono gravissime le condizioni di un altro motociclista di 52 anni schiantatosi a mezzogiorno di ieri contro un furgoncino in via nazionale a Bari Palese. Il centauro è stato soccorso e trasportato in codice rosso. Violenze sessuali, maltrattamenti, insulti e minacce avvenuti a bordo della fregata della marina militare Martinengo. Queste le accuse nei confronti del comandante Roberto Carpinelli e dei sottocapi di prima classe Giovanni Napolano di Salerno e Gianluca Longo di Tricase. La procura di Taranto ha notificato ai tre un avviso di conclusione delle indagini. Le presunte vittime, componenti dell'equipaggio, sono 13 ma in particolare tre, due ragazze poco più che ventenni e un tarantino 24enne, sarebbero stati oggetto a bordo di attenzioni e avrebbero subito palpeggiamenti e vessazioni psicologiche. E in condizioni stabili, la donna di 39 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi per i traumi riportati dopo aver subito un'aggressione dal compagno nel suo appartamento a Latiano. La donna ieri mattina è stata sottoposta a una ulteriore TAC e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, la posizione del compagno e al vaglio della procura. Resta in carcere Giuseppe Proce, il ventitrenne di Racale, accusato del tentato omicidio aggravato dai futili motivi della sua fidanzata, il GIP di Lecce ha convalidato l'arresto in flagranza e ha disposto la custodia a cautelare in carcere per il pericolo di recidiva. Una donna trentenne, capotreno, in servizio sul regionale Barletta Fasano di Trenitalia, è stata colpita con un calcio all'addome da un passeggero che pretendeva di salire a bordo del treno con la bicicletta senza pagare il biglietto. La donna non ha fortunatamente riportato lesioni, l'aggressore è stato bloccato. Una coppia di anziani croceristi inglesi, sbarcati a Taranto per un breve giro turistico, è stata denunciata per aver rubato un borsello all'interno della libreria della cattedrale di San Cataldo. I due, ripresi da una telecamera durante le fasi del furto, sono stati rintracciati dalla polizia in un bar poco lontano. Una bimba di tre anni, ricoverata nell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, è stata trasferita d'urgenza al Bambin Gesù di Roma con un volo sanitario dell'aeronautica militare. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, è stata imbarcata su un Falcon 50, decollato dall'aeroporto di Brindisi e atterrato a Ciampino. Meteo, spariscono le nuvole e torna il caldo a foso lungo le coste adriatiche. Temperature in aumento su tutta la regione, con punte fino a 35 gradi su Tavoliere e Arco Ionico Tarantino. Vento di maestrale teso, mosso il mare adriatico, poco mosso lo Ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.